ben ritrovati in questa quindicesima lezione affrontiamo un periodo relativamente breve di storia della tecnologia tutto sommato una ventina d'anni che stanno a cavallo tra la fine del settecento e l'inizio dell'ottocento però si tratta di vent'anni densi di eventi di grandiosa importanza storica sono come vedremo il periodo in cui prendono pienamente respiro alla rivoluzione americana già accennata la volta scorsa la rivoluzione francese e la rivoluzione industriale e vedremo quali eventi e di quale importanza si verificano appunto da un punto di vista tecnologico all'interno di queste grandi epopee ne tolgo dai piedi la mia telecamera come al solito eccoci che possiamo iniziare nel 1789 esplode la rivoluzione francese in realtà le avvisagli i primi eventi sono poco anteriori ma con la presa della bastiglia si verifica il l'esplosione vera e propria della rivoluzione perché ci interessa ovviamente un evento di importanza storica capitale rovesciamento della monarchia assoluta ma anche l'avvio di nuovi modelli politici culturali scientifici e tecnologici hanno luogo proprio con in seguito all'interno della rivoluzione francese e vediamo subito che cosa mi riferisco da un punto di vista tecnologico nel 1790 onore blanc francese come potete vedere introduce una tecnica di lavorazione nuova innovativa rivoluzionaria e la lavorazione a pezzi intercambiabili qui dobbiamo un attimino prima di leggere i concetti successivi che sono presentati in questa slide cercare di inquadrare il problema fino ad allora la qualità la precisione con cui veniva prodotto ciascun componente ad esempio per fusione era piuttosto grossolano il che voleva dire che per essere montato ad esempio su di un fucile su di un moschetto un grilletto o un cane dovevano sottostare ad un lavoro di sistemazione e di adeguamento delle dimensioni che si chiamava aggiustaggio e che permetteva ai diversi componenti di combinarsi insieme ovviamente questa operazione era fatto pezzo su pezzo e quindi ogni pezzo aveva una forma unica alla fine guardando alle misure esatte e poteva lavorare solo in combinazione con gli altri pezzi ai quali era stato adattato e gli altri componenti quali era stato adattato il che voleva dire che quando si rompeva uno di questi componenti ad esempio un grilletto bisognava rifare questo lavoro di aggiustaggio per renderlo adeguato al mostetto in cui doveva essere montato quindi tutte queste lavorazioni sono piuttosto lente dispendiose e inefficaci nelle attività di manutenzione per cui è stato veramente auspicabile potere avere pezzi lavorati con tolleranze così e le con precisioni così elevate meglio dire da permettere l'intercambiabilità però questo non era assolutamente alla portata della tecnologia del tempo quel primo che cerca di realizzare questi standard produttivi su livelli di produzione industriale è blanc e lo fa appunto per i moschetti che in quel momento servono alle armate rivoluzionarie e poi alle armate napoleoniche è possibile quindi grazie a queste lavorazioni l'uso con parti di ricambio evidente che in quel momento la francia prima rivoluzionaria e poi napoleonica era molto interessata a a disporre di questa tecnologia visto il livello di conflittualità in cui viveva verso gli stati che la circondavano con gli altri paesi europei e curiosamente il la turbolenza politica fece sì che questa tecnologia così di avanguardia sedici anni dopo venisse abbandonata le fabbriche di blanca che producevano in questo modo vennero chiuse però però in questo modo blanca apre una strada che verrà colta anche da altri e lo vedremo presto in questa lezione ecco vale la pena di dire che non era la primissima volta che qualcuno pensava di produrre a parti intercambiabili in realtà questo concetto era nell'aria già da parecchi decenni il primo a pensarci era stato se non vogliamo andare a dei precedenti in epoca classica che direi fanno parte sono più delle curiosità speculative che eventi tecnologici reali il primo che ci aveva pensato dico era stato christopher polem in svezia pensando di applicarla ad un settore che per valore dei prodotti realizzati l'orologeria era in grado di sostenere nel costo in effetti proprio in francia alcuni orologiai nel corso del settecento avevano colto questa modalità di produzione per cui alcuni componenti interni come bilancieri ingranaggi venivano prodotti in serie con tolleranze molto spinte e in modo da poter essere intercambiabili ma farlo su scala industriale per componenti di grandi dimensioni era un'altra cosa e il primo che ci penso fu appunto blanche in questo contesto un anno dopo altra innovazione francese rivoluzionaria perché appartiene alla francia rivoluzionaria è il primo telegrafo ora quando noi parliamo di telegrafo abbiamo in mente il telegrafo elettrico per essere più precisi elettromagnetico ma in realtà il primo telegrafo operativo in europa fu quello ottico creato da eccolo qui da cloud shop e siamo nel 1791 e le modalità operative sono vede quelle che vedete che si intuiscono e adesso ve le illustro in questa immagine allora scusate il sistema di trasmissione è basato su torri come questa in cima alle quali c'è il sistema di segnalazione che è costituito da un'asta su cui può essere manipolato un sistema articolato formato da tre da tre aste mobili tirando opportunamente delle cordicelle le aste mobili possono assumere le diverse forme che vedete indicate in questa tabella di simboli ogni simbolo rappresenta un carattere dell'alfabeto e in questo modo facendo assumere al sistema articolato le diverse forme si può comporre una parola di senso compiuto ovviamente quali sono i problemi di un sistema di questo tipo è geniale oltretutto scusate non l'ho detto vale la pena di dirlo subito piazzando delle candele in queste posizioni in queste nicchie qui è possibile rendere visibile il sistema anche in piena notte allora quali sono le caratteristiche operative beh il sistema è ottico perché appunto il messaggio viene percepito visivamente bisogna che chi lo percepisce lo deve percepire stia a distanza di visuale dalla torre che trasmette quindi è necessario predisporre torri come questa a distanza di non più vedete i 12 25 chilometri e ciascuna torre trasmette alla torre successiva la torre successiva riceve il messaggio e lo trasmette alla lo ritrasmette alla torre ancora successiva quindi bisogna creare una sequenza di torri lungo il percorso di trasmissione che devono essere presidiate 24 ore su 24 ovviamente se si immagina di dover trasmettere dei messaggi strategici ad esempio durante una campagna militare quindi servono tantissime torri e tantissimi addetti altra cosa ovviamente il messaggio detto si può trasmettere un messaggio intellegibile ma per evitare che vengano carpiti dei segreti in realtà è opportuno che il messaggio alfabetico sia codificato in modo da essere interpretabile solo criptato e se essere interpretato solo da chi conosce il codice di decriptazione è comunque un sistema veramente rivoluzionario visto che siamo in momenti di rivoluzioni perché la trasmissione ottica è estremamente più rapida che con il trasporto animale ad esempio di un messo a cavallo il messaggio potrà viaggiare a una velocità di 840 chilometri in 12 minuti quindi assolutamente irraggiungibile questa era la tratta più lunga che venne realizzata è assolutamente più veloce di qualsiasi esperienza precedente assolutamente impensabile e la pensata è geniale ovviamente il sistema è molto costoso per i motivi che vi ho detto e la sua diffusione giustificata proprio dalle esigenze strategiche e militari dobbiamo pensare che siamo in epoca di guerre rivoluzionari e guerre napoleoniche anzi è un fatto importante un elemento importante della supremazia francese e napoleonica almeno in una fase iniziale ed è tanto tanto successo che anche altre nazioni in particolare la gran brettagna lo adottano rapidamente per darvi un'idea di che cosa voleva dire una rete telegrafica ottica questa era la mappatura delle stazioni all'interno della francia vedete il profilo di costa della francia qua c'è un dettaglio di parigi che sta qui e queste sono le linee di trasmissione con tutte le stazioni di ripetizione ebbe un successo enorme e diciamolo subito fu da stimolo allo sviluppo di sistemi altrettanto efficaci ma più economici nella gestione questi sistemi saranno in particolare il telegrafo elettromagnetico che vedremo non oggi ma in una lezione successiva altra innovazione notevole dell'epoca rivoluzionaria è l'introduzione del sistema metrico decimale c'è il sistema che usiamo anche adesso basato sulle unità di misura decimale che viaggiano a multipli di dieci il metro il chilogrammo e il secondo all'inizio la mks ma poi diventa uno standard di unità di misura scientifiche in realtà è concepito già nel 1790 siamo quindi già in epoca rivoluzionaria ma l'ideazione iniziale è di luigi xvi nel momento in cui proprio come vedete in cui esplodeva la rivoluzione l'intenzione era quella di avere un sistema razionale e però si pensa subito già sotto la l'iniziazione l'istituzione di da parte di luigi sedicesimo di in impostare di istituire questa nuova unità di misura su basi scientifiche infatti la commissione è formata dai maggiori o alcuni dei maggiori scienziati francesi del momento vedete qui i nomi alcuni vi sono noti altri erano allora altrettanto importanti anche se magari voi non li avete sentiti nominare ma laplace le gendre coulomb la voasi li avete sentiti sicuramente no a che cosa sarebbe servito avrebbe aver l'intenzione era di avere un sistema di utilità commerciale per combattere le frodi per combattere equivoci interpretativi su unità di misure non chiaramente definite e difficili da gestire però però rapidamente le unità di misura vennero adottate poi in campo scientifico e tecnico ed hanno costituito un fattore di fondamentale importanza nella gestione inequivoca appunto delle informazioni scientifiche tecniche quando questa questi metodi razionali di gestire le unità di misura sono venuti meno ed è successo anche di recente vi racconterò qualcosa a proposito delle missioni spaziali in una delle ultime lezioni vedremo è successo che sono avvenuti dei dei disastri anche notevoli ho che dire ancora in realtà le ambizioni del sistema decimale erano più ampie di quelle di applicazione sulle distanze sui pesi e sui tempi brevi si era pensato anche ad un calendario repubblicano che usasse un conteggio decadico delle ore e dei giorni quindi erano previsti ad esempio 12 mesi di 30 giorni con poi ovviamente l'aggiunta dei 5 6 giorni per completare l'anno ma in realtà questo sistema si tentò di introdurlo sempre nel 1793 ma non ebbe successo perché è perché si andava a scontrare con una resistenza più solida di quanti non fossero le le convinzioni rivoluzionarie in particolare di tipo religioso culturale per essere molto chiari la domenica dopo sette giorni la gente era abituata andare a messa ed avere una settimana che non esisteva più ma c'era una decimana formata di dieci giorni sconvolgeva questa a questa abitudine questa convinzione importante ovviamente per per tutte le persone di fede vale la pena di dire che non fu un'invenzione assoluta quella del sistema di misura decimale francese del 1793 perché qualcuno ci aveva già pensato in particolare ci aveva pensato john wilkins di cui vi ho parlato come uno dei fondatori della royal society e un altro personaggio non ho avuto modo di presentarvi ma che è estremamente interessante della vita culturale scientifica e tecnica del settecento si chiama titolivio burattini come vedete il nome italiano ma è anche estremamente veneto perché era originario di agordo e studiò e si formò proprio a padua altra innovazione sono arrivato a parlare di padua quindi di università è un'altra innovazione straordinaria dell'epoca rivoluzionaria francese è l'istituzione delle colpo di tecnica e colpo di tecnica fu voluta fortemente da uno di quei grandi scienziati di allora il nome appariva nella commissione dei pesi e misure che vi ho nominato poco fa gaspar monge che era un matematico e geometra geometra non come geometra che costruisce la casa ma come esperto di geometria è chiaro che intuisce l'importanza di avere una scuola di alta formazione di livello universitario ma rivolta a tematiche tecnico scientifiche piuttosto che di tipo umanistico diciamo ecco qual era la tradizione allora come sappiamo ed ecco appunto che in questo spirito costituisce la scuola politecnica l'ecolo politecnico il primo politecnico la prima università scientifico tecnologico scientifico ingegneristica ditelo come volete in cui quindi noi come ingegneri o aspiranti ingegneri non possiamo che riconoscerci allora com'era fatta questa università nella concezione di gaspar monge che era un grande scienziato un convinto sostenitore della rivoluzione è una persona di principi molto rigorosi integeri doveva essere un'università con un indirizzo tecnico applicativo è ovvio non più umanistico letterario appunto era erede delle cold ponte chossi di cui vi ho già parlato quindi era lo sviluppo di quel tipo di competenze ed ecco qui la cosa importante popolare era ovvio siamo in un'epoca rivoluzionaria aristocrazia è stata rovesciata quindi tutti possono accedervi purché ne abbiano le capacità fortemente selettiva e meritocratica sono principi assolutamente rivoluzionari per l'università e le università europee però devo farvi notare che quei principi lì erano presenti anche in quelle prime università islamiche che erano apparse circa mille anni prima vale la pena di riconoscerlo ecco sugli stessi principi venne poi fondata poco dopo credo l'anno successivo lo stesso anno l'ecole normale che era una analoga università a indirizzo applicativo dove però venivano insegnati i principi di amministrazione e di gestione economica che fanno sì che tuttora abbia la francia disponga in questo settore di una tradizione di eccellenza allora andiamo un po più nel dettaglio nel capire che cos'era le colpo click technique allora vi ho già detto era una scuola che proponeva una sistematica e rovorosa preparazione scientifico e matematica e nei decenni successivi appunto perseguendo questi ideali realizza la sistematica applicazione di metodi dei modelli matematici proprio alle discipline ingegneristiche che erano invece più di tipo intuitivo sperimentali fino ad allora erano eredi delle capacità artigianali delle botteghe degli degli artigiani che abbiamo incontrato durante il medioevo indirizza la formazione degli ingegneri quindi su rigorose basi scientifico matematiche ma come fa a fare questo beh affidandosi ovviamente a docenti che la sapevano lunga ma molto lunga ecco tra gli insegnanti che hanno in sé che hanno frequentato insegnato hanno operato alle colpo le tecniche vi cito solo alcuni nomi ma che li conoscete sicuramente monge carnault laplace lagrange poisson fori e cauchy ermite ampere insomma ragazzi e ragazze se vi capitava di essere degli aspiranti ingegneri in francia in quell'epoca sicuramente non mi mancavano docenti di eccellenza assoluta e che cosa insegnano queste persone insegnano e nell'insegnare presentano le loro scoperte le loro innovazioni e queste sono le cose che venivano sviluppate e insegnate nella francia rivoluzionaria da loro e anche post rivoluzionaria bisogna dire le proiezioni ortogonali che oggi conosciamo benissimo sono un elemento fondamentale del disegno tecnico sia in ambito meccanico che in ambito edile sono un'invenzione di monge appunto si chiama la geometria descrittiva allora ma anche tutta la matematica le formulazioni che fanno uso dell'analisi differenziale dei mezzi continui ideate dalla place de poisson quelle del calore ideate da fori e quelle dell'elettrodinamica ideate da poisson ed ampere della fluidodinamica navie dell'elasticità cosci loro le hanno fatte queste cose insomma come vedete hanno posto un mattone fondamentale di quella che sono le nostre conoscenze ingegneristiche adesso e hanno fatto scuola rapidamente lo vediamo tra un attimo in europa e poi non solo in europa allora nel 1804 arriva l'investitura di napoleone altre parole napoleone diventa monarca assoluto pur essendo figlio della rivoluzione con investitura a imperatore quasi mille anni anzi poco più di mille anni dopo carlo magno va bene non entriamo adesso nei dettagli a commento delle investiture di napoleone non ci interessa molto lui si lancia nelle guerre di conquista napoleoniche sbaragliando inizialmente gli eserciti degli altri paesi e diffondendo quindi l'area di influenza francese i domini francesi e portandoci le idee che erano germogliate allora in francia in particolare tra le idee il sistema metrico decimale e i politecnici tanto per essere chiari il politecnico di napoli arriva nel 1800 viene istituito nel 1803 napoleone era già ovviamente controllava il potere in francia già da prima della sua investitura e all'interno tra l'altro del del azioni napoleoniche va anche notato fatto un pochino più folcloristico forse che costeva nella ricerca di strategie militari vincenti in qualsiasi direzione potessero essere trovate quindi non solo il telegrafo ottico di shop come abbiamo già visto o la tecnica di costruzione a parti intercambiabili di blanche che abbiamo visto un attimo fa ma anche addirittura andare alla ricerca di idee geniali e vincenti nei testi e di di leonardo da vinci ed è in questo modo che testi che erano stati dimenticati gli atlanti per molto tempo vengono recuperati studiati di nuovo e continuiamo studiando anche adesso altra invenzione francese dell'epoca non di indirizzo bellico militare ma produttivo manifatturiero è il telaio automatico di jacquard abbiamo già sentito parlare di telaio automatici ne abbiamo visti parecchi nel corso del settecento in particolare quello di wakanson molto avanzato sofisticato ma era rimasto un pochino dimenticato inutilizzato troppo avanzato per l'epoca ecco quello che fa c'è a car di fatto è recuperare proprio quel telaio con i suoi precedenti vi ricordate bucon falcon e così via che che finalmente può essere realizzato con qualche perfezionamento con le tecniche con la tecnologia che nel frattempo è avanzata e si è perfezionata quindi stavolta il telaio di jacquard ha un successo strepitoso certo strepitoso anche se le tecnica costruttiva viene tenuta segreta è protetta da brevetti eccetera la conoscenza di questo telaio e dei prodotti che riesce a realizzare si diffonda in tutta europa ovviamente come al solito scommettata di una macchina a funzionamento automatico causa le rivolte degli operai che si che vengono minacciate il loro lavoro ma come succede tipicamente in queste situazioni col passare del tempo queste rivolte si sedano diciamo che le aspirazioni e le attese di impiego dalle persone trovano soddisfazione anche in altre direzioni e il telaio finisce per imporsi finisce per imporsi ed è un passo in avanti notevolissimo verso l'automazione in campo tessile e non solo questo diventa celebre la tecnologia del telaio in tutta europa e come vedete diventa celebre anche il metodo di memorizzazione che del della lavorazione da eseguire del disegno operato che si vuole ottenere che è formato dalle schede perforate proprio come le aveva pensate falcon e bucciano prima di lui insomma che era una striscia a quell'epoca e qualcuno recupera questa idea qualche decennio dopo lo vedremo ne parleremo a suo tempo in un settore totalmente diverso bene adesso facciamo un salto in america ma in gran brettagna in particolare in inghilterra a qualche anno prima della fine del secolo della svolta del secolo nel 1697 questo signore qua lo vediamo in un ritratto in età ormai matura ma lui era quel ragazzino quel giovenetto meglio che aveva aiutato george brama a costruire la sua pompa in alta pressione mettendoci delle idee veramente geniali certo punto mosli così si chiama si mette in proprio abbondona brama che lo sfruttava senza tanti scrupoli crea una sua officina dove sviluppa con la sua genialità macchine completamente nuove il primo è un tornio per metalli con torretta lo vedete realizzato qui molto semplicemente la torretta allora il tornio sapete che è un oggetto che tiene in rotazione un pezzo da lavorare per dargli una forma a simmetria cilindrica sagomata magari in ma simmetria cilindrica ora per poter incidere il pezzo ottenere la forma voluta bisogna reggere un utensile una punta da taglio ecco tradizionalmente la punta da taglio era trattenuta in mano dalle persone dall'operatore che lavorava al tornio abbiamo visto del varie stampe anche medievali che facevano vedere appunto un un artigiano impegnato a fare questa operazione reggendo l'utensile in mano l'idea notevole di mosli è di adottare un sistema si chiama torretta che blocca l'utensile e quindi permette di lavorare con una precisione e poi ovviamente di spostarlo nel modo voluto durante la lavorazione permette di ottenere delle lavorazioni estremamente più precise che con la tradizionale lavorazione in mano ecco vale la pena di dire che vocanson in francia che come abbiamo visto era stato un meccanico di straordinarie capacità intuitive aveva già concepito questa idea ma era rimasta ancora una volta nelle invenzioni di tre come succede alle altre invenzioni di vocanson come abbiamo visto per il telaio una ideazione sterile senza che venisse recepita e diffusa invece in inghilterra l'idea di mosli ha sicuramente uno sviluppo importante per quello che vedremo presto ovviamente quando si vuole lavorare con alta precisione serve una macchina utensile come questa ma serve anche un'altra cosa serve uno strumento di misura che mi permetta di misurare con che cosa sto lavorando che dimensioni ha l'oggetto che sto lavorando e questa misurazione deve essere con caratterizzata da una precisione ancora più spinta di quella della macchina utensile che fa la lavorazione se dovessi misurare la precisione di un pezzo lavorato al centimetro con uno strumento di misura che ha la precisione di un metro non mi servirebbe a niente mentre mi serve uno strumento che la precisione del millimetro per capire se il centimetro lo ho raggiunto cosa di più o cosa di meno ecco quindi che correntemente con queste esigenze mosli inventa anche dei micrometro di precisione uno strumento particolare per misurare la dimensione degli oggetti che come vedete ha una soluzione estremamente spinta un decimillesimo di pollice ovviamente sapete che il pollice in quell'epoca l'inghilterra non aveva ancora recepito non ha recepito del tutto neanche adesso sistema metrico decimale quindi continuava a ragionare in pollici 2,54 centimetri un pollice ecco questo vi dà l'idea della precisione con cui era in grado di funzionare questo micrometro ovviamente mosli non si ferma a fare questo ma perfeziona le sue macchine come vi dicevo prima sviluppando le macchine successive e dal tornio precedente nel 1800 otterne un tornio per realizzare filettature delle viti quindi garantisce precisioni maggiori produce viti che sono anche di grandi dimensioni ma avendo dimensioni molto precise sono anche ripetibili ripetibili si possono ottenere più viti che sono uguali l'una all'altra dove ovviamente intendiamo con uguali entro una precisione estremamente spinta e quindi questo lo capite è un passo importante verso l'ottenimento di componenti meccanici tutti uguali l'uno all'altro non sono le viti ma anche da altre cose e quindi per i discorsi che vi facevo prima apre la strada alla possibilità della produzione in serie sistematica anche in inghilterra ed è proprio grazie a questo tipo di lavorazioni che diventa di uso comune l'impiego delle viti come elementi di fissaggio prima non era così perché ogni vite era diversa dalle altre per quanto bene fosse fatta e quindi andava bene solo nella sua sede che andava filettata apposta per quella vite e quindi l'uso non era così universale come invece siamo abituati a pensarlo adesso dove sappiamo bene che viti che hanno lo stesso standard possono essere intercambiate senza alcun problema mosli non fa solo queste invenzioni importantissime sulla strada della lavorazione meccanica di precisione in particolare metallica perché queste macchine nascono per lavorare i metalli invece che il legno l'epoca del legno sta tramontando ecco diciamolo subito ma anche un grande caposcuola è un grande caposcuola perché perché nella sua officina vanno a formarsi giovani di talento attirati dalla fama di mosli che a loro volta portano delle innovazioni e allora volta le insegnano a degli altri allievi ed ecco quindi che si crea una vera e propria dinastia di ingegneri e tecnici geniali inglesi che professionalmente nascono con con mosli nomi ve li indico qui ma poi li rincontreremo roberts napier clement whitford nasmit e mur e da altri ancora bisogna dire ecco la cosa interessante è che c'è una specie di albero genealogico di di questi inventori progettisti ingegneri che sono collegati da relazioni di maestro discepolo e questa è una rapida sintesi appunto dei contributi che si danno come vedete il grande capostibite brama nella cui officina si forma mosli ma si forma anche clement si forma anche wolf e vedremo che cosa faranno queste persone e poi nell'officina di morli si formano whitworth qua ci sono anche delle interazioni come potete robert nasmit e così in altre parole dalle idee iniziali di brama sono state quelle idee la prime scintille da cui si è creata una vera e propria scuola ecco fenomeni come questi sono non frequentissimi ma nemmeno insoliti nel panorama dello sviluppo scientifico e tecnologico a ci sono dei precedenti ed anche culturale generale dobbiamo dire ci sono dei precedenti notevolissimi se guardiamo alla atene del quinto secolo lì non c'era tecnologia ma c'era filosofia ad esempio grande scuola di pensiero bene le tradizioni filosofiche di atene che sono sviluppate intorno a socrate platone aristotele e poi altri ancora dopo di questi si 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 inquadrano in contesto di questo tipo atene era una fucina di pensiero dove era facile che talenti particolarmente dotati andando lì potessero sviluppare appieno le loro competenze cosa simile l'abbiamo vista anche nelle corporazioni degli artigiani medievali e se vogliamo fare un esempio molto illuminante nella firenze di inizio rinascimento che ha visto un fiorire straordinario incredibile di artisti e di tecnici come botticelli leonardo tanto per fare due nomi ma la lista è lunghissima e come mai sono apparsi tutti più o meno nella stessa epoca e nella stessa città per considerazioni del tutto simili li hanno trovato un terreno persone dotate di grandissimo talento ovviamente ma hanno un terreno trovato un terreno fertilissimo con le conoscenze di chi li ha preceduti e le scuole che hanno fatto che gli ha preceduti in cui sviluppare i loro talenti e qua sta succedendo qualcosa del genere per la meccanica di precisione metallica inglese che ha rivoluzionato appunto al modo di concepire le lavorazioni meccaniche e ha aperto la strada lo ribadisco alle lavorazioni metalliche in sostituzione di quelle linee c'erano altri esempi ce n'è uno di clamoroso a metà del novecento seconda metà del novecento su questo ci torneremo però in una delle elezioni future bene andiamo avanti e anche l'inghilterra quindi si trova ad affrontare problemi di produzione in serie e in particolare in un settore prima di tutto che è quello navale siamo in epoca di guerre napoleoniche la flotta britannica controlla le rotte marine prevale su quella francese ma ovviamente perché questo avvenga bisogna costruire vascelli da guerra in continuazione rafforzare la flotta appunto e costruire i vascelli vuol dire costruire anche tutti i componenti che ne sono necessari in particolare c'è un componente che ci interessa ed è il bozzello è questo oggetto qui che fa parte delle carrucole marine insomma tirando le funi opportunamente tese a prendere su questi fori si ottiene un'azione del tutto analoga a quella della carrucola nome tecnico è bozzello ma potete immaginare se avete mente come fatto un veliero del settecento dell'ottocento che di questi oggetti ce n'erano un'infinità a bordo di una ciascuna di quelle imbarcazioni ed imbarcazioni di navi da guerra bisognava costruirne parecchie in sostanza era necessario produrre 60 mila di questi oggetti all'anno e durante le guerre napoleoniche in inghilterra e costruirli con le tecniche tradizionali a mano appunto le tecniche dell'aggiustaggio cui facevo riferimento prima no che era quello di ottenere l'oggetto voluto con una lavorazione manuale artigiano dopo da parte di ciascun artigiano richiedeva l'operazione molto lenta quindi nasce l'idea di produrre questi oggetti con la tecnica della produzione in serie in questo caso non si parla di parti intercambiabili perché era un unico componente non c'erano più parti da combinare insieme come in un fucile o in una pistola la questa produzione in serie viene avviata a post malz in fabbrica che si chiama la fabbrica dei bozzelli di post malz come vedete con successo chi è che ha questa idea di impiantare questa fabbrica un signore che si chiama mark isanbar brunel nome suona francese ed effettivamente è un nome francese perché lui è un geniale ingegnere francese che in epoca rivoluzionaria scappa dalla francia in inghilterra perché lui è un lealista realista e è aristocratico quindi si salva la vita appunto fuggendo profugo in in inghilterra però li porta le sue competenze a una vita di successo come ingegnere e introduce in in inghilterra queste tecniche che come abbiamo visto erano germogliate in realtà in francia in che cosa consiste la sua invenzione suddividere il processo produttivo in una serie di operazioni tutte semplici fatte in successione da persone diverse usando macchine diverse quindi non un'unica persona all'approccio artigianale che produce un bozzello dall'inizio alla fine parte dal pezzo di legno grezzo che quando finisce la lavorazione ottiene il bozzello finito così lavora l'artigiano lui invece progetta una produzione di fabbrica in cui ogni addetto ogni operaio non più artigiano esegue una singola operazione e alla fine si arriva al bozzello però per fare questo potete ben capire che serve servono anzi chiedo scusa macchine opportune pensate apposta per eseguire rapidamente ed efficacemente ciascuna delle operazioni allora che cosa fa brunel per ottenere questo si rivolge al migliore meccanico inglese dell'epoca chi è il migliore meccanico inglese dell'epoca costruttore di macchine utensili ovviamente mosli e quindi e mosli che la progettazione del sistema di brunel ma la progettazione e fornitura delle macchine e dimostri produce 43 macchine per lavorazioni di precisione e che portano rapidamente a produrre questi bozzelli quanto rapidamente il tempo di produzione di un bozzello si riduce di un fattore di un fattore 10 quindi come vedete è veramente una scelta rivoluzionaria in campo tecnologico animata da un contesto politico che è quello della rivoluzione francese ma c'è anche l'altra grande rivoluzione di cui dobbiamo parlare chiedo scusa ancora stamattina sono un po rauco quella americana la rivoluzione americana è già avvenuta l'abbiamo visto ma soltanto nel 1789 quindi circa 13 anni dopo la il termine della guerra rivoluzionaria che ha portato all'indipendenza gli stati uniti ratificano la costituzione ci hanno messo molti anni a pensarla però bisogna dire che l'hanno pensata molto bene perché è il documento su cui ancora poggia tutti i fondamenti politici della della nazione più potente più sviluppata tecnologicamente al mondo quali sono questi principi oggi ci sembrano banali ma in realtà dovete pensare che a quell'epoca la america rivoluzionaria che si era resa indipendente dalla gran bretagna si confrontava con nazioni assolutiste e nel 1789 solo allora la francia stava entrando in fase rivoluzionaria come abbiamo visto allora che cosa dicevano le colonie americane o coloro i rappresentanti delle colonie che scrissero la costituzione i padri fondatori come vengono chiamati il potere viene dal popolo è una repubblica indipendenza del potere giuridico dal potere esecutivo e dal potere legislativo cosa fondamentale garanzia totale dell'opposizione d'america si può dire quello che si vuole finché non si ledono i diritti dagli altri c'è totale libertà di espressione del proprio pensiero cosa che da noi non è così così garantita ci sono delle cose che se noi le diciamo possiamo andare incontro ad essere accusati di avere commesso dei reati libertà totale di stampa in questo spirito assolutamente e cosa fondamentale diritto alla ricerca di felicità terrena felicità perseguibile tramite l'arricchimento per tutti e questi principi sono importanti perché sono il fondamento costituzionale della importanza dell'iniziativa principale delle privata ovvero sono il fondamento del principio del self made man che alla base del successo economico americano dietro a questo ci sono grandi nomi come si sono sviluppati su queste basi come ad esempio edison come ford henry ford l'inventore dell'auto mobile per tutti ma se andiamo ad epoche più recenti come steve job e bill gates ecco questo se vi chiedete come mai in america così facilmente germogliano persone così geniali che diventano poi ricchi sfondati con le loro mettendo appunto le loro pensate geniali beh il motivo sta proprio in questo fondamento etico che pervade tutta la società americana padri fondatori che hanno scritto in realtà la persona tra i padri fondatori che maggiormente responsabile di della scrittura della costituzione si chiama thomas jefferson e un principio che lui ha espresso chiaramente su cui si basa appunto la costituzione questo noi riteniamo che tutti gli uomini sono stati creati uguali che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili che fra questi vi sono la vita la libertà e la ricerca della giudizia principio altissimo ovviamente ovviamente c'è il rovescio della medaglia dico qui bisogna ricordarlo thomas jefferson era uno schiavista e nella sua piantagione lavoravano 600 schiavi o più di 600 queste cose ovviamente evidentemente quando parlano di tutti gli uomini qua bisognava aggiungere forse bianchi sarebbe stato più corretto ma bisogna dirlo ci sono anche questi aspetti neri oscuri dietro alle pagine limpide del degli stati uniti bene ma torniamo a vedere qual è l'effetto di questa impostazione politico sociale del paese che sta nascendo in america beh a fianco a questo viene emanata subito una legge sui brevetti si capisce l'importanza che hanno le innovazioni tecnologiche e quindi la loro difesa per mezzo di leggi sui brevetti che si ispirano alle analoghe leggi sui brevetti britanniche ma sono molto più aperte e flessibili e che permettono quindi un più facile accesso al brevetto e i risultati sono che in effetti all'indomani della ratifica della costituzione germogliano negli stati uniti una serie di invenzioni notevoli alcune fantasiosi alcune sciocche ma alcune di grande importanza anche tecnica ed economica uno dei grandi inventori di quest'epoca si chiama oliver evens lo vedete qui e lo incontreremo poi in altre invenzioni ma per adesso ve lo presento con un'invenzione che lui brevetta nel 1790 che è un grande sistema per la macinazione della farina su scala industriale invece del singolo molino che ha un'unica macina questa è una macchina che vedete qui in sezione azionata dalla sua ruota idraulica ovviamente quello il motore primo per fare queste lavorazioni e tuttora in america l'america tarda a recepire come anche gli altri paesi europei la potenzialità della macchina vapore che ormai affermata in gran bretagna quindi qua c'è una ruota idraulica vedremo poi i progressi successivi e insomma è un primo passo della diffusione negli stati uniti in questo modo di quella cultura imprenditoriale industriale britannica che ovviamente gli americani percepivano gli statunitensi percepivano e che applicavano in questo caso nei settori dove loro sentivano più forti nella produzione agricola per molto tempo la gli stati uniti rimangono un paese a forte vocazione agricola altro inventore importante della stessa epoca si chiama ellie whitney siamo nel 1692 inventa una macchina per la rasatura dei tessuti anche lui era interessato era un uomo del sud ed era interessato alle produzioni agricole però di fibre tessili non di alimenti come invece con la farina nel 1692 inventa una macchina per la rasatura dei tessuti ma l'invenzione più importante in questo settore la fa l'anno dopo nel 1793 con la macchina sgranatrice del cotone confidenzialmente chiamata cotton gin la vedete disegnata qui e qui in un modello museale vedete stata una macchina molto semplice azionabile a manovella sia qui che qui ma geniale nella sua concezione perché si buttano dentro i fiocchi di cotone e la macchina pettina le fibre separando dalle elementi di contaminazione che possono esserci e quindi ricavando fibre distese pronte per essere filate nel filatoio successivo grazie a questa macchina è di importanza strategica per l'industria per la produzione di cotone chiedo scusa non l'industria l'industria c'è in inghilterra per la produzione di cotone a fini tessili americano grazie a questo il cotone americano può essere offerto il cotone lavorato con la cotton gin sui mercati europei che sono in piena espansione prima di tutto quello inglese ovviamente che ne ha bisogno come materia prima per tessere e diventa competitivo su altri tipi di cotone che in principio sarebbero migliori anche di quello americano perché dotati di fibre più lunghe particolare quello indiano ma così pretrattato è più competitivo è vincente invece quello quello americano appunto che viene dalle coltivazioni del sud che rapidamente espandono questa produzione arricchendosi parecchio ovviamente come spesso avviene c'è il rovescio della medaglia perché l'effetto collaterale è che con l'espansione delle piantagioni serve anche aumenta la richiesta di mano d'opera e la mano d'opera tipica addetta a queste lavorazioni pesantissime alla raccolta del cotone nei campi è costituita da schiavi quindi è un periodo questo di intensificazione del flusso di mano d'opera servile di schiavitù proveniente dall'africa equatoriale a proposito appunto dell'uso degli schiavi a cui facevo riferimento poco fa da parte di jefferson andiamo ancora un po più avanti nel 1798 whitney comincia ad interessarsi di un'altra idea un'idea che in realtà è stata portata in america proprio da thomas jefferson che si uno dei redatori della costituzione diventerà poi anche presidente degli stati uniti ma prima di questo è stato ambasciatore dei nuovi delle nuove colonie dei nuovi stati uniti d'america dopo quindi la vittoria della rivoluzione dell'indipendenza americana a parigi presso la nazione amica che era la francia lo era stata anche prima della rivoluzione francese un paese amico no la francia era nemica dell'inghilterra che l'aveva sconfitta nella guerra dei sette anni quindi vedeva molto favorevolmente agli stati uniti che si sentivano ancora opposti alla gran brettagna in quell'epoca allora che cosa avviene l'idea viene importata da jefferson negli stati uniti avendola vista realizzata da blanchi in francia quella della produzione dei fucili a pezzi standardizzati intercambiabili l'accoglie whitney e nel 1689 imbrogliando un pochino su quello che capace di produrre in quel momento convince il dipartimento della guerra aveva il dipartimento della guerra appunto per l'interesse era militare era notevolissimo in queste cose anche negli stati uniti a farsi finanziare un contratto per molto ricco per la fornitura di 10.000 moschetti realizzati con la tecnica dei pezzi intercambiabili in serie a pezzi intercambiabili in realtà elie whitney nel 1698 non ha assolutamente gli strumenti per realizzare questo risultato ci deve lavorare su per una decina d'anni e anche più e soltanto nel 1809 comincia ad ottenere i primi risultati che richiedono lo sviluppo di tecnologie completamente nuove quindi macchine di precisione per eseguire le lavorazioni dime le dime sono le sagome di controllo delle misure ottenute in lavorazione maschere stampi e così via e alla fine si arriva a qualche risultato in realtà il risultato definitivo arriverà solo nel 1825 circa qua avrei potuto aggiungerlo ma insomma gli stati uniti si mettono sulla strada in questo modo diciamo che prendono il testimone in questa staffetta della lavorazione a parti intercambiabili dalla francia e si mettono loro a correre in questa direzione e whitney diventa uno dei grandi promotori di queste nuove tecnologie che appunto fioriscono in modo particolare negli stati uniti bene non solo ad opera di whitney ma anche di altre persone simone north è un altro che si pone obiettivi del tutto simili in questo caso per la fornitura di 20.000 pistole commissionata ancora una volta dal dipartimento della guerra contratto federale le motivazioni sono le stesse di prima l'idea nasce intorno al 1800 qui vedete lo stesso momento in cui ci pensa più o meno anche a lui vogliono ci vogliono parecchi anni per portare a realizzazione il processo produttivo e nel 1813 in grado di iniziare la produzione sistematicamente in serie di questi oggetti ovviamente anche qui servono tutta una serie di macchine procedimenti precisi che comportano attenzione questo è un fatto importante da osservare che le persone che ci lavorano non hanno più il profilo dell'artigiano che sa fare un po tutte le lavorazioni della macchina quello che del prodotto che si vuole ottenere della pistola in questo caso eccola qui ma sono necessari invece operai che hanno esigenze di preparazione di addestramento molto minori c'è una riduzione della professionalità degli addetti man mano che si introducono macchine sempre più precise ed avanzate in questo modo avviene appunto quello che vi ho raccontato prima gli stati uniti diventano i veri pionieri della produzione in serie con tenete conto che a metà secolo saranno talmente più avanzati dei britannici che i tecnologi britannici in epoca ormai pacificata tra le due nazioni faranno viaggi esplorativi negli stati uniti per imparare quali sono le tecniche di produzione in serie degli americani anche su questo avremo modo di tornare ovviamente bene adesso direi che è venuto anche il momento di parlare un pochino della produzione dell'uso della macchina vapore perché dietro allo sviluppo della rivoluzione industriale di cui dobbiamo parlare adesso c'è ovviamente successo della macchina vapore allora facciamo il punto abbiamo già incontrata nella lezione precedente ma adesso è arrivato il momento vedrete presto di fare il punto nei primi decenni dell'ottocento alla macchina vapore per impiego statico ricordiamo se lì io non vi ho ancora parlato di ferrovia e di locomotiva produce una rivoluzione culturale in campo scientifico e tecnico dico perché beh perché riflettiamoci un attimo realizza l'unificazione tra due forme energetiche che sono sempre esistite l'uomo le ha sempre usate ma per migliaia di anni le ha ritenute due cose completamente diverse il caldo l'energia termica e il movimento l'energia meccanica con la macchina vapore si unificano dal caldo si ottiene dall'energia termica si ottiene energia meccanica la macchina vapore fa questa conversione ovviamente tutto questo stimola delle curiosità scientifiche notevoli sono in molti interessarsi sui principi in base ai quali avviene questa conversione quanti sono i limiti possibili raggiungibili con questa conversione e tutto questo avviene con l'invenzione della termodinamica si apre un nuovo capitolo scientifico e poi avrà una importanza fenomenale negli sviluppi scientifici già dell'ottocento e anche del novecento i principi della termodinamica sono di importanza capitale vengono messi appunto in seguito agli interessi su perché funziona la macchina vapore la macchina vapore questo in campo scientifico in campo tecnico che cosa avviene avviene che gradualmente si fanno macchine a vapore sempre più performanti sempre più potenti e quindi gradualmente la macchina vapore fornisce livelli di energia meccanica nettamente maggiori di quelle delle macchine precedenti quindi delle ruote ad acqua e delle ruote a vento impensabili in epoca precedenti ed è grazie a questa disponibilità di energia che si può alimentare un processo di sviluppo industriale che è energivoro che per crescere ha bisogno di sempre più energia ma non c'è solo questo la macchina vapore ha dei vantaggi notevoli sia sull'acqua che sul vento perché è ubiquo sia nel tempo che nello spazio la ruota d'acqua si può costruire solo vicino a un fiume la macchina vapore si può installare anche nel deserto volendo in una zona priva di corsi d'acqua la ruota a vento o eolica si può può funzionare solo quando c'è vento la macchina vapore finché continua ad alimentare la di carbone funziona sempre quindi le macchine vapore da anche una garanzia di continuità e ubiquità di esercizio impensabili con gli altri motori energetici usati in precedenza tradizionale e qua c'è un paradigma energetico qualcuno mi faceva una domanda di voi qualche giorno fa e qua lo inquadriamo adesso facciamo il confronto con la ruota idraulica la risorsa energetica primaria non è più l'acqua ruota idraulica ma il carbone che deve essere minato estratto da sottoterra e quindi nasce inizia la stagione che stiamo vivendo tuttora dei combustibili fossili per la prima volta prima non c'era un uso sistematico dei combustibili fossili era del tutto occasionale e per impieghi marginali qual è il motore che esegue la conversione alimentato dal carbone è ovviamente la macchina vapore perché ve lo faccio notare perché ovviamente la macchina vapore per funzionare ha bisogno di un materiale strutturale diverso dalla ruota idraulica per la ruota idraulica legno andava benissimo la macchina vapore mai e poi mai potrà funzionare se è realizzata in lingua serve metallo anzi non solo metallo serve della ghisa di alta qualità o se volete dell'acciaio di discreta qualità poi il il confine tra queste due definizioni è un po aleatorio ci intendiamo e abbiamo visto di che cosa intendo parlare quando parlo di acciaio di discreta qualità quello ad esempio prodotto da corte da quella generazione di sideruggi bene ovviamente era detto che non per questo si rinuncia ai metodi tradizionali sia chiaro mulini a vento continuano ad essere usati ancora per molto tempo la generazione aleatoria nel tempo l'abbiamo detto le ruote idrauliche anche queste continuano ad essere usate anche vengono perfezionate bisogna dire per parecchio tempo e anche se hanno rendimenti di gran lunga superiori a quelli della macchina vapore di gran lunga superiori anche di un fattore 10 tranquillamente anche di più però sono limitati nella potenza mentre la macchina vapore ve l'ho detto poco fa gradualmente vedono crescere la potenza che sanno erogare e quindi sul classano le ruote idrauliche è vero che il rendimento è più alto per la ruota idraulica ma stesso concetto di rendimento viene messo a fuoco soltanto nel corso dell'ottocento soltanto dopo quei concetti di energia di lavoro vengono definiti nell'ambito dello studio della termodinamica di cui parlavo qui ecco qui due riferimenti che ci rendono conto dell'importanza che viene ancora garantita passiamo ancora a metà del settecento alle ruote idrauliche ma questa è una fotografia invece dall'ottocento vedete una grande ruota idraulica in america dove c'è l'energia idraulica a disposizione perché no sfruttiamola ci mancherebbe altro è importante perché nel corso dell'ottocento gli studi sulle ruote idrauliche sfociano nello sviluppo della turbina moderna ma questo lo vedremo a suo tempo allora facciamo un pochino il punto di questa macchina nuova che sta imponendosi sta diventando grande e matura sta diventando adulta che cosa conviene viene impiegata nel settore manifatturiero in che modo un po insolito rispetto a quello che potremmo immaginare noi la macchina vapore una macchina grande complessa costosa e sviluppa tanta potenza non si riesce a farla piccola non è ragionevole non è economicamente conveniente per cui le macchine che si dotano le macchine le fabbriche che si dotano di una macchina vapore ne prendono una e che sia in grado ovviamente di fare funzionare tante macchine operatrici contemporaneamente e su questo principio si progettano fabbriche completamente nuove ecco ci pensate le ruote idrauliche ad esempio dei delle macchine seriche bolognesi ne abbiamo viste degli delle immagini in una delle lezioni precedenti ogni macchina serica aveva la sua ruota idraulica ecco qui il concetto è diverso appunto no una singola macchina vapore aziona tutte le macchine operatrici tutti i telai ad esempio vediamo tra un attimo che vuol dire che devo progettare la fabbrica in modo completamente diverso quindi devo mettere la macchina vapore in una posizione centrale e poi devo inventarmi un sistema di trasmissione dell'energia meccanica del movimento prodotto dalla macchina vapore verso la la periferia dove sono posizionate le macchine operatrice con tutto questo permette di ottenere un enorme aumento di produttività perché appunto la potenza sviluppata dalle macchine vapore enormemente superiore a quelle sta diventando che attualmente è un aumento superiore a quelle delle macchine precedenti e questo fa sì che questo sistema di produzione alla fine finisca per avere il sopravvento sugli altri è il sistema del factory system di cui abbiamo già parlato ed è il sistema su cui si fonda la rivoluzione industriale appunto allora qui adesso c'è un vi faccio vedere delle immagini di come sono organizzati questi opifici queste fabbriche questa scrittura qui riguarda quello che vediamo tra un attimo questa è una fabbrica di oggetti metallici quindi di torni di di frese e così via vedete che c'è il sistema di trasmissione meccanico a soffitto realizzato con alberi pulegge e cinghie le vedete bene qui e gli alberi a soffitto vengono tenuti in movimento dalla singola macchina a vapore e tramite questi sistemi di trasmissione dell'energia meccanica con le cinghie si fanno funzionare le singole macchine operatrici utensili chiedo scusa macchine operatrici ancora un po diverse ma qui vediamo un'analoga distribuzione dell'energia in un caso nel caso di una fabbrica del settore tessile queste sono macchine cardatrici qua ci sono i filatoi e vedete che anche in questo caso la trasmissione della potenza viene con alberi a soffitto pulegge e cinghie allo stesso modo questo è un telaio ancora industria tessile quindi vi ricordo che il comparto tessile di clan lunga il più importante ancora in quell'epoca lo rimane per vario tempo e di nuovo la trasmissione è quella che vi ho detto notate che cosa importante da osservare visto che la potenza è fornita dalla macchina a vapore agli operatori non è richiesto di applicare potenza forza fisica nello svolgimento del loro lavoro e quindi questo permette l'impiego in queste fabbriche anche di personale di addetti femminili vedete qui delle signore addirittura una bambina i bambini erano molto impiegati in queste fabbriche e così pure e questa idea non si limita solo a settori chiamiamoli così d'avanguardia come quello tessile quello meccanico ma trova successo anche successo in settori più tradizionali ad esempio questa una fallegnameria inglese dell'ottocento e vedete inequivocabilmente il sistema di movimentazione proprio quello di distribuzione della potenza quello che vi ho illustrato poco fa e anche all'estero viene immediatamente esportato anche questa una fallegnameria ma in questo caso siamo in canada canada che rimane con l'epoca una collega inglese ricordiamolo e di nuovo c'è la macchina a vapore che viene azionata da che permette gli azionamenti di con queste cinghie pulecce qua siamo verso la fine dell'ottocento la seconda metà dell'ottocento come vedete quindi è una soluzione che ha un successo che prosegue per molti per tutto il secolo si diffondono sempre di più queste soluzioni tecnologiche e cominceranno ad entrare in crisi solo alla fine dell'ottocento ma questo lo vedremo più inoltre nei primi decenni del secolo comincia a verificarsi il trasferimento tecnologico internazionale e diciamo non intenzionale per lo meno non voluto dall'inghilterra un fenomeno con cui i traguardi inglesi e i successi inglesi vengono gradualmente trasferiti all'estero e in questo modo diventano conoscenze tecnologiche anche di altri paesi in realtà gli inglesi non vorrebbero il governo per lo meno che avvenisse tutto questo perché ovviamente si tenta di difendere questi primati britannici da una potenziale concorrenza estera ma come spesso succede in questi casi pensate a quello che è successo 150 anni prima con le vetrerie i vetri veneziani e i tentativi di non anzi facciamo la rovescio e l'importazione di tecnologia veneziana prima in francia e poi in inghilterra che hanno infranto e hanno avuto successo infrangendo i divieti di venezia beh qua succede una cosa del tutto simile per i divieti esportare le tecnologie dalla macchina vapore questo è infatti un esempio di una fabbrica organizzata in germania è ancora una fabbrica di lavorazioni meccaniche con macchine utensili vedete torni frese eccetera trapani e la l'alimentazione avviene con gli stessi principi in questo modo le tecnologie britanniche finiscono per costituire il modello di sviluppo degli altri paesi europei in particolare dell'europa occidentale il primo che prende questa strada il belgio che ha rapporti molto stretti di collaborazione economica di interazione economica chiamiamo così con la gran brettagna seguito poi dalla germania dalla francia la svezia aveva già preso questa strada per i fatti suoi l'abbiamo visto e quindi impara anche lei presto ad usare la macchina vapore e così via e e a fianco a questo ci sono anche altri settori che continuano a svilupparsi quello chimico diventerà uno dei settori più importanti dell'ottocento a servizio a servizio di altri settori industriali nel 1800 nel 1800 viene creato uno stabilimento a glasgo il ideatore tutto questo è il proprietario dello stabilimento è chartenand per la produzione di sbiancanti in polvere a base di cloro allora in realtà io del sbiancanti a base cloro ve ne ho già parlato ma quelli erano sbiancanti liquidi quelli ottenuti con il metodo bertolet che ne abbiamo visto no installati in francia nel 1785 in gran brettagna nel 1787 funzionavano benissimo però avevano un problema portare lo sbiancante liquido dalla fabbrica chimica al stabilimento tessile dove doveva essere impiegato comportava dei problemi non banali le strade i mezzi di trasporto non erano quelli di adesso e quindi i rischi di rottore dei contenitori disversamenti erano e anche la manipolazione in fabbrica comportava dei rischi notevoli ricordiamoci erano sostanze fortemente molto pericolose tossiche molto aggressive per l'organismo per la pelle e quindi avere a disposizione invece degli sbiancanti in polvere era sicuramente un termine un fatto di notevole vantaggio per questi sono molto più manipolabili molto meno pericolosi da utilizzare e quindi è una tecnologia innovativa che ha un enorme successo e rende obsoleta ovviamente quella precedente che non vuol dire che chi stava continuando aveva comodità ad usare gli sbiancanti liquidi ha smesso improvvisamente ma vuol dire invece che gradualmente il successo degli sbiancanti liquidi declina e gradualmente viene abbandonato processi sono sempre lenti di di contrazione dell'interesse verso una tecnologia piuttosto che un altro a vantaggio di un altro ecco per darvi un'idea di quale era la scala del successo del metodo industriale britannico scala che ha si concretizza poi nel dire questa è la rivoluzione industriale tenete conto che tra il 1700 e 1880 quindi epoca preindustriale a piena espansione industriale il successo internazionale inglese raggiunge l'apice nel 1880 poi cominciano a comparire altri concorrenti importanti ma in questo periodo di 130 anni la produzione tessile inglese aumenta di 3000 volte vi ricordo che il settore tessile è quello più importante economicamente gli altri complatti però hanno un successo paragonabile a questo e come fa a produrre o meglio dove finisce tutta questa produzione ovviamente finisce in un mercato interno che molto recettivo l'abbiamo già detto ma gradualmente anche in un mercato estereo che è disposto ad acquistare prodotti britannici che sono sempre più competitivi rispetto ai prodotti nazionali grazie al fatto che sono prodotti con il metodo industriale e quindi si assiste per vari decenni all'univinio britannico del commercio internazionale che riguarda il settore tessile sì ma anche le materie prime carbone ferro e poi anche tecnologia avanzata come vi ho già detto macchine a vapore a un certo punto ci saranno le ferrovie e così via questo periodo a gran bretagna in grado di imporre sui mercati internazionali qualsiasi prodotto c'è qualche storico che ha scritto proprio qualsiasi cosa venisse in testa a quelle fosse venuta in testa a quell'epoca ad un imprenditore inglese di produrre e mettere sul mercato quel prodotto sarebbe stato certamente assorbito dal mercato talmente era plateale totale il successo delle produzioni inglese il dominio dei mercati garantisce alla gran bretagna ovviamente un afflusso di formidabili risorse finanziarie dall'estero sono quelle più pregiate evidentemente la bilancia dei pagamenti era aveva dei saldi positivi fantastici e per buona parte del secolo in questo contesto ovviamente l'economia britannica rimane la più avanzata del pianeta questi sono i diagrammi di sviluppo economico vedete la gran bretagna qua sopra come si espande e solo successivamente si assiste dopo il 1830 a una analoga espansione di altri temibili concorrenti gli stati uniti che in effetti nel 1900 sono la prima potenza industriale diventata ma anche la germania vedete ovviamente col tempo avviene che quando uno vede che i suoi prodotti hanno così tanto successo non si preoccupa tanto diventare prodotti diversi e quindi tutto questo successo finisce anche per innovare per frenare l'innovazione tecnologica infatti vedremo che le tecnologie più avanzate del diciannovesimo secolo dell'ottocento si affermano prima di tutto in altri paesi effetti occupazionali ovviamente avviene anche questo che un paese che era all'inizio fortemente agricolo all'inizio dell'ottocento aveva ancora un terzo della popolazione impegnata in agricoltura alla fine del secolo ne ha solo meno di un decimo impegnato in agricoltura dove sono andati tutti questi addetti sono trasferiti al settore manifatturiero alle fabbriche quindi ma anche in parte al terziario questo processo poi di trasferimento verso il basso in questi miei tre settori agricoltura manifatturiero storie manifatturiero trasporti prosegue anche nel novecento ma lo vedremo a suo tempo e nonostante questo l'agricoltura inglese continua ad essere florida almeno fino al 1870 circa come mai beh come mai perché pur avendo meno addetti può contare su tecnologie molto più avanzate sempre più avanzate su macchinario sempre più avanzato questa è un riassunto delle tappe di cui vi ho parlato nello sviluppo tecnologico perché in settore nel settore agricolo con macchine sempre più performanti e sulle quali torneremo ancora sono alla base queste macchine del progressivo trasferimento della forza lavoro dal settore primario al settore secondario le implicazioni sociali di tutto questo sono che qui doveva apparire diversamente ma vabbè adesso vediamo un attimo di commentare comunque gli artigiani e i contadini di un tempo diventano operai salariati che vanno ovviamente rifornire di forza lavoro quelle fabbriche che diventano sempre più grandi e sempre più numerose ma come si lavora in queste fabbriche i salari sono minimi a livello di sussistenza a livello proprio di avere soltanto il minimo per pagarsi per comprare il cibo quotidiano e poco più pochissimo di più e questa nuova classe sociale che vive in queste condizioni che prima non esisteva per questo dico nuova classe sociale è quello che poi ma si chiama il proletariato proletariato che vive in condizioni costretto a operare in condizioni di indigenza totale mancanza di garanzie sociali non c'è assistenza sanitaria quindi se uno sta a casa malato sono cavoli suoi non sussidi di disoccupazione se uno resta senza lavoro perché l'imprenditore ha installato nuove macchine automatiche sono cavoli vuoi non c'è ovviamente nessun sistema di pensione sono i figli che lavorano che un giorno mi garantiranno il reddito per poter comprarmi da mangiare quando non sarò io più in grado di lavorare disciplina ferrea in fabbrica o in miniera organizzazione di tipo militare gli opifici le fabbriche le miniere assumono quel modello organizzativo gli orari di lavoro sono massacranti si arriva anche a 18 ore di lavoro al giorno è previsto anche il lavoro femminile e infantile abbiamo visto prima nelle fabbriche ma i bambini vengono impiegati anche in miniera perché per due motivi sia uomini sia donne che ragazzi e ragazze sono pagati molto meno degli uomini quindi c'è un vantaggio economico quindi dove serve meno energia muscolare forza muscolare vanno benissimo i ragazzini miniera vanno anche meglio perché si riescono a infinare in cunicoli piccoli dove gli uomini non riuscirebbero a entrare molto spesso poi ci sono un sacco di incidenti ovviamente sia in miniera che nelle fabbriche quindi è molto pericoloso anche la questa attività lavorative qualche volta si arriva addirittura degli assurdi in cui se un operaio un minatore non ha il piccone deve pagare l'affitto al proprietario della della miniera e lo strumento di lavoro condizioni igienico sanitarie deplorevoli e ovviamente lì dove si sviluppano queste fabbriche c'è bisogno di creare le abitazioni per questi operai che non hanno sicuramente a disposizione treni o cose del genere e mezzi di trasporto di questo tipo quindi si creano dei quartieri satelliti rispetto alle fabbriche che sono delle bidonville letteralmente quartieri malsani e squallidi privi di qualsiasi infrastruttura ed è sono queste le prime grandi meganopoli industriali organizzate così quindi assolutamente dei posti non dove non è auspicabile vivere dove meglio tenersi dalle quali meglio tenersi all'allarme ovviamente questi operai questi proletari ambiscono a rivendicazioni salariali ma non avendo sociali in generale ma non avendo strumenti a disposizione l'unica cosa che possono fare ribellarsi ribellarsi e quindi animare delle sommosse ce ne sono in continuazione vedete già nel 1700 inizia la metà del 1700 cominciano a delinearsi quando quando cominciano ad apparire queste prime fabbriche guarda caso è un momento particolarmente cruciale sia tra il 1811 1817 dove ci sono vaste rivolte in gran bretagna all'interno di un movimento che viene chiamato ludismo perché il capo dovrebbe essere un personaggio leggendario misterioso che si chiama net del utile è talmente imponente queste queste azioni di rivolta da parte degli operai che che sono impiegati più militari più forze armate a sedare le rivolte sul territorio inglese che non nelle campagne militari contro napoleone insomma se ecco qui ve ne indico alcune tanto per avere un'idea di quanto sistematiche se sono e vedete che coinvolgono proprio gli ideatori degli sviluppi tecnologici di cui vi ho già parlato che i are grace a cry car try e così via talvolta alle rivolte hanno anche successo ad esempio nel 1778 è stato emanato uspita gli spital field act l'ospital da la legge di spital field che stabilisce livelli minimi salariali almeno che abbiano da mangiare sti poveri disgraziati era questo il principio però per un bel po la soluzione preferita è quella di azioni repressive repressive e spesso durissime addirittura con l'immanazione di leggi che prevedono pene capitali e con l'esecuzione effettivamente di pene capitali le rivolte del 1811 1817 in particolare quelle contro le manifatture cartwright si risolvono appunto con pene capitali quindi sono periodi veramente terribili per gli operai che alimentano con la loro forza lavoro la rivoluzione industriale c'è qualcuno che in inghilterra parla di due paesi di due nazioni quella della gente che sta bene della borghesia che è in espansione che si sta arricchendo che beneficia di tutto quello che porta di buono la rivoluzione industriale il progresso tecnologico e in la gran bretagna povera quella del proletariato che vive in condizioni sempre più estreme e sempre più deplorevole gradualmente però le cose cambiano perché con l'aumento della produttività dovuto alla meccanizzazione i costi calano e quindi si espandono i mercati ecco per darvi un'idea nel giro di 50 anni a cavallo dell'ottocento il numero di addetti ai filatoi si è ridotto di 4 qui dove c'erano cinque addetti alla fine ce n'è uno solo il costo del filato si è ridotto di nove decimi quindi costa un decimo del prezzo iniziale i tessuti di mezz'anni e quindi col tempo tutto questo fa sia appunto che si possono vendere più prodotti all'estero si espande il mercato come dicevamo prima si espandono i commerci si conquistano i mercati esteri dove non ci sono norme protettive la proibizione di portata in inghilterra per intenderci aumenta la produzione e quindi si rassolve la mano d'opera e contestualmente a questo sviluppo economico complessivo si assiste neanche a l'emanazione di leggi più lungimiranti che volgono sono rivolte invece che a reprimere le rivolte a prevenirle garantendo condizioni di vita minime quasi decorose ecco quindi leggi che di fatto sono più democratiche tutto questo avviene in un contesto di uno sviluppo che anche demagogico demografico chiedo scusa demografico perché l'inghilterra c'è un vero e proprio boom demografico l'inghilterra qui vedete la popolazione nel 1701 è questa con la scala colori che vi dà l'intensità la densità di popolazione intorno ai centri urbani di londra e così via qua siamo nel 1911 200 anni dopo ci sono nella stessa scala colori come vedete ampie zone verde quindi ad altissima densità di popolazione nei grandi comprensori industriali non solo londra ma quella di manchester e liverpool è quella qua sopra di glasgow e così via ovviamente tutto questo alimentato da continua innovazione tecnologica come nuovi telai sempre più performanti sempre più automatizzati ovviamente sempre motorizzati dal dalla macchina a vapore e più perfezionati rispetto ai modelli precedenti che automatizzano sempre di più le lavorazioni un esempio è il telaio importante di radcliffe nel 1804 ma ovviamente questa boom tecnologico ed economico stimola altri inventori a fare di meglio ed ecco quindi nel 1813 ho rocca che viene fuori con un suo telaio automatico motorizzato che va meglio sia di quello di cartwright che quello di radcliffe e quindi comporta un nuovo passo in avanti verso la produzione sempre più efficienti ed economiche ed automatizzate ovviamente migliore qualità dei tessuti eccetera tutto questo quindi è un processo continuo qua io ve ne ho indicato delle tappe questo è un riassunto delle tappe che vi ho raccontato ce ne sono altre successivamente ma poi diventano come così vaste e generalizzate che insomma inseguirle tutte è una fatica inutile direi l'importante con il concetto qui c'è un altro settore che comincia a fare i primi passi proprio a cavallo del cambio di secolo è quello dell'impiego della macchina a vapore per propulsione in realtà avevamo già visto in francia nel 1700 stato aveva fatto un tentativo ecco un'altra persona che intuisce queste possibilità è l'oliver evans di cui vi ho parlato prima a proposito della fabbrica per la produzione di farina negli stati uniti lui concepisce ma non realizza la lascia solo disegnata come vedete i disegni sono questi di utilizzare la macchina a vapore per azionare una draga anfibia quindi per azionare sia le ruote per avanzare su strada che una ruota a pale posteriore per muoversi in acqua è un'idea non realizzata ma è un'idea comunque che sta germaniando chi invece realizza qualcosa del genere è due anni dopo in gran brettagna smainton che costruisce un battello a vapore che a finalità esclusivamente ricreative lo costruisce per un nobile un aristocratico della regione dove lui abita lord andas che la intitola alla figlia charlotte andas e questo è il nome anche dell'imbarcazione quella vedete in sezione 17 metri ruote a pale posteriore e macchina a vapore con biella e manovella per nazionamento la macchina funziona anche un certo successo mediatico finisce sui giornali eccetera ma siccome ha una finalità esclusivamente ricreativa è priva di uno sviluppo commerciale un pochino come era avvenuto bisogna dire nel caso dei battelli a vapore francesi dorote di alcuni decenni prima di cui ho parlato una volta precedente un'altra persona che intuisce queste possibilità che è fortemente interessato alle tecnologie per la navigazione è un francese scusate francese è uno statunitense che si chiama robert falton il quale però vive in quel periodo in gran parte in francia e in europa infatti assiste alla navigazione della charlotte andas di poco fa e lì vengono delle idee dice questa è una roba da lavorarci su da svilupparla inventa la torpedine l'antenato del siluro concepisce la ruota l'elica a pale a quattro pale di tipologia diversa dalla ruota a pale questa è veramente un elica concepisce anche un sottomarino e ne vedete qua il disegno è una macchina troppo piccola per poter ospitare un motore di qualsiasi tipo quindi l'azionamento è a forza manuale vedete con questa manovella e qua c'è l'elica qua ne vediamo due pane qua dietro e invece nel caso di un battello lì c'è spazio per metterci la macchina vapore costruisce anche un bottello a vapore ispirato la chardone che nel 1803 in naviga sulla senna lo fa vedere a napoleone ma napoleone resta abbastanza disinteressato a tutte queste idee che propone il nostro nostro falton al che a un certo punto falton se ne torna negli stati uniti e gli viene un'idea gli viene l'idea di costruire un battello a vapore che navighi sull'azion lungo rotte che sono già rotte di navigazione per imbarcazioni che risalgono il fiume a vela perché non ci mettiamo una bella imbarcazione a vapore ed ecco che costruisce questa imbarcazione la chiama clermont è di 40 metri un'imbarcazione di dimensioni importanti adatta al trasporto commerciale al trasporto quindi viaggi cargo per farla muovere usa una macchina di balton e watt la va a comprare in gran bettania ovviamente e da una dimostrazione appunto sull'azion risalendo l'azion da new york fino ad albani o albani come si dovrebbe dire che sta a 240 chilometri più a monte e tutto questo ha un enorme successo perché rispetto alle barche alle imbarcazioni che lo risalgono tradizionalmente a vela ci mette un sesto del tempo e sei volte più veloce ma questa vedete com'è fatta questa è un imbarcazione delle un imbarcazione una foto del clermont eseguita a fine ottocento quando lui era ancora in grado di navigare o lei perché la nave dovrebbe essere femminile si dice e questo è un modellino della stessa imbarcazione vedete benissimo che c'è il comignolo lo vedete il comignolo della macchina a vapore le due ruote a pale laterali che è il tipo di propulsione ne abbiamo già parlato di questa cosa preferita per le imbarcazioni a vapore per ancora qualche decennio ma ci sono anche le vele perché dove si può e come misura di emergenza in caso di guasti alla macchina vapore è in grado di navigare anche la macchina un enorme su l'imbarcazione un enorme successo resta in servizio operativo per sette anni e poi viene sostituita da imbarcazioni più evolute ma in realtà apre la strada a una modalità di navigazione rivoluzionaria che è quella dei piroscafi come li aveva chiamati derotè le imbarcazioni mosse dalla macchina a vapore che hanno un boom per tutto l'ottocento qui ne vedete una di queste grandi battaglia uno di questi grandi battaglia vapore sul mississippi dove appunto tra l'altro si trovano ancora fini turistici rapidamente a un certo punto la rota verrà portata in modo più efficiente a poppa invece che lasciarla laterale ma la soluzione laterale ha comunque continuo avere successo e viene usata anche per imbarcazioni sotto e per navigazioni sotto costa ma non in mare aperto la navigazione in mare aperto solleva problematiche molto particolari che devono essere risolte e che avranno bisogno di molto tempo per essere risolte alcuni decenni ancora contemporaneamente vengono sviluppate anche macchine a vapore sempre più innovative questa è la macchina a due stadi di wolf due stadi vedete sono i due cilindri in uscita dal primo cilindro il vapore ancora adottato di pressione il vapore di scarico e quindi viene utilizzato per azionare un secondo cilindro come la pressione calata il volume aumentato il secondo cilindro in bassa pressione a dimensioni più grandi di quello in alta pressione primaria qual è il risultato di tutto questo il primo cilindro in alta pressione funziona a 3 4 atmosfere per allora questa era veramente un'alta pressione e dalla stessa macchina si può ricavare un livello di potenza più elevato un elevato rapporto potenza peso e specialmente un rendimento più elevato che con macchine questo tipo raggiunge come vedete 7 5 per cento che quindi ha poter un potenziale impiego anche in locomozione viene pensata all'inizio per uso statico ma alla fine avrà impieghi anche altro e visto che parliamo di locomozione un'altra innovazione che comincia a diffondersi in realtà nota da 150 anni ma comincia a diffondersi in questo periodo sono i binari che letteralmente escono dalle miniere e dai parchi di smistamento del carbone dei minerali all'esterno delle miniere e cominciano ad essere usati anche per trasporto comune la prima linea di questo tipo viene realizzata in gran bretagna a sud di londra come vedete si estende per 16 chilometri e l'impiego è questo è di fare avanzare in modo più fluido e facile richiedendo una minore forza di trazione delle carrozze per trasporto di persone binari gradualmente all'inizio sono in legno per due è scritto qua vedete gradualmente vengono irrobustiti rivestendoli in lamiera per ridurre l'attrito e l'usura a un certo punto poi vengono introdotti binari in ghisa che sono più resistenti del legno lamierato quando bisogna trasportare dei grandi carichi e gradualmente poi ovviamente viene usato una lega in ferro migliore quindi a un certo punto verranno usati anche i ferri migliori quegli acciai di discreta qualità di cui abbiamo già parlato questa è un'immagine nel galles di un carrozza che funziona in questo modo i binari si vedono benissimo il motore e il cavallo siamo nel 1870 però a quell'epoca saranno apparse anche cose diverse le vediamo presto a che a qualsiasi sterrata un cavallo in grado di trainare su un carro che pesa dalle 08 alle due tonnellate dipende dal fondo stradale quando invece lo si fa viaggiare sui binari con lo stesso carro con quello stesso cavallo in grado di cavallo in grado di trainare 8 tonnellate quindi il vantaggio è un pochino quello che abbiamo già visto per il trasporto fluviale nostro tempo in cina ne ho parlato bene allora visto che stanno maturando tutte queste idee c'è qualcuno comincia a concepire l'idea di mettere insieme il trasporto meccanico con la macchina a vapore e il grande innovatore vero che ci aveva già pensato mardo che ve ne ho parlato in in una lezione precedente del 1784 con un modellino ma adesso ci pensa un'altra persona che perseguirà l'idea con più determinazione si chiama richard trevitic è un britannico un gallese per essere più precisi che coglie le possibilità offerte dai nuovi dalle nuove leghe le produzioni qui di siderurgiche migliorate le migliori precisioni di lavorazione eccetera per ottenere una macchina una macchinetta dimostrativa piccolina in alta pressione l'altra pressione quella di cui parlavo prima evidentemente non come la intendiamo adesso che è in grado di avere un elevato rapporto potenza peso e quindi è in grado di muoversi da sola realizza un primo modellino nel 1697 e poi un modello di dimensioni maggiori nel 1801 e lo vedete qui come è fatto una disposizione un pochino buffa direi no c'è un grosso volano qui di fianco due ruote per l'avanzamento una dotata di ruote dentate per il trasferimento del moto anteriori e un ruotino posteriore quindi si tratta di un triciclo su avanzamento su strada ma trevitic si accorge che questa non è la strada vincente e quindi pensa di mettere insieme tecnologie diverse combinarla macchina a vapore con i binari ed ecco che costruisce la prima la prima locomotiva a vapore e la prima ferrovia anche eccolo qua lo fa in galles la macchina si chiama penny darren è dotata dei binari la vedete benissimo qui in una foto successiva ma che riproduce proprio la macchinario originale in questo caso la disposizione è del tutto innovativa vedete che il cilindro e il pistone hanno movimento orizzontale gli ingranaggi per la trasmissione del moto le ruote sono diventate quattro c'è un carellino per mettere il carbone così ne esegue una dimostrazione in cui la macchina la locomotiva dimostra di saper trainare e greggiamento un carico di 10 tonnellate di ferro ma nei carretti nei carri successivi ci stanno anche 70 passeggeri si viaggia lentamente a 5 mili all'ora ma la macchina funziona esegue tre prove qual è il difetto di tutto questo questa è una macchina molto pesante poi ci sono le 70 attorno alle 10 tonnellate più passeggeri eccetera e quello che cedono sono i binari si accorge che la ghisa di bassa qualità che ha utilizzato per i suoi binari non è adatta a questo tipo di però la macchina funziona e funziona tuttora eccola qui nel museo in cui è conservata a me c'è se ricordo vedete pistone a moto alternata orizzontale bielle manovella ingranaggi la grande ruota a volano dalla parte bene travisi continua a perseguire questa idea realizza una nuova macchina più evoluta che si chiama catch me who can eccola qui e ne dà una dimostrazione a londra sulle rive del tamigi questa è londra realizzando una ferrovia circolare dove dimostra le potenzialità della macchina ma fa anche reddito perché questa è anche a fini ludici ovvero la gente può salire a bordo della ferrovia del del treno trainato dalla locomotiva sui carrelli posteriori e farsi un giro pagando un biglietto di di accesso come in un luna park insomma a un certo punto però anche qui si rompono i binari quindi la ghisa non è ancora quella giusta ma vabbè queste cose poi vengono rimediate solo a un certo punto questa persona così fantasiosa la vedete qui riprodotta in questa stampa decide di andare in sud america cercare la fortuna lì e in effetti installa lì le sue macchine a vapore a servizio di una miniera d'argento nella quale ha investito i suoi capitali resta in america per un po di tempo poi torna in gran brettagna e abbandona un po queste idee che non trovano ancora all'attenzione del pubblico nonostante e degli investitori nonostante i suoi tentativi e si dedica a applicazioni più convenzionali della macchina a vapore perfeziona a questo tipo insieme non da solo insieme ad altri ingegneri gallesi questa macchina che ha un notevolissimo successo perché è geniale nella sua concezione si chiama cornovaglia la macchina ha tre atmosfere di pressione quindi alta pressione ha un disegno molto semplice molto razionale nella sua concezione quindi ha bisogno di bassa manutenzione da un enorme diffusione in effetti per una serie di impieghi statici che vanno dal pompaggio dell'acqua alla motorizzazione di una serie di attività agricole come trebbiatura macinatura eccetera. A questo punto vi propongo anche in questo caso una tabella riassuntiva dello sviluppo delle macchine a vapore a partire dalla pompa di Saveri del 1698 fino alla macchina non solo alla cornovaglia di cui ho parlato poco fa ma ce ne saranno passi successivi come vedete li ho indicato qui macchina a due stadi di Corlis e la macchina addirittura a tre stadi che raggiunge un rendimento dell'23 per cento molto grande per uso marino in questo caso quindi mobilità vedete come sono cresciuti nel tempo gradualmente i rendimenti vi ho portati quelli che sono riuscito a recuperare spesso non sono documentati impieghi della macchina per inter utilizzi statici in campo statico abbiamo visto che si è partiti dal impiego per azionamenti di drovere in miniera per sollevamento dell'acqua vuol dire e poi gradualmente la macchina a vapore è uscita dalla miniera per impieghi dove erano richieste elevate potenze mantici per forni fabbrica di oggetti metallici mantici per forni di nuovo maglio per metallurgia e poi con il moto rotatorio laminatoi ma a fianco a questo ci sono anche gli impieghi nell'industria leggera come appunto la fabbrica in campo tessile arkwright cartwright cartwright di nuovo arkwright come vedete e poi gradualmente anche viene utilizzata in agricoltura ad esempio per l'azionamento dei mulini dal grano in sostituzione delle ruote eoliche già detto i vantaggi che ha sulla ruota eolica e gradualmente anche per l'azionamento delle macchine agricole a cui ho fatto già accenno un attimo fa ad un certo punto qui si metteva la macchina a vapore ferma sul bordo di un campo e tramite cinghie catene funi cose di questo tipo si facevano si azionavano le macchine agricole come gli aratri gli erpici seminatoi e seminatrice così e a fianco a questo abbiamo visto che sta emergendo un nuovo settore di impiego che è quello della locomozione della mobilità trasporti terrestri siamo arrivati a mardoc trevizic fino a qui ma vedremo nelle lezioni successive passaggi importanti in particolare di stevenson e vedremo che cosa arriveranno e poi anche i passaggi dei trasporti navali siamo arrivati a parlare della clermont di falton oggi ma vedremo che a un certo punto compariranno anche i piroscafi oceanici e di questo ovviamente dovremmo parlare più avanti interdipendenze ovviamente questo enorme successo che la macchina a vapore in tutti i settori produttivi e di mobilità e ga sono garantiti questo che non hanno successo è garantito dal fatto che maturano contemporaneamente anche tecnologie collaterali che sono quelle siderurgiche metallurgiche e abbiamo visto in particolare le sinergie tra watt e wilkinson ma non sono state le uniche sono quelle un'esemplificazione importante iniziale ed è proprio da queste sinergie che nascono poi i grandi successi comportano la grande i grandi aumenti di produttività e alla fine il successo commerciale quando mancano invece queste sinergie molto spesso le innovazioni anche se geniali finiscono per concludersi in un insuccesso ho ancora due slide da farvi vedere per farvi capire che anche altri paesi stanno muovendosi sullo sviluppo industriale non solo l'inghilterra su cui mi sono concentrato in questa lezione in particolare in germania vengono messe appunto nuove tecniche tipografiche la litografia che consiste nell'usare una pietra su cui si disegna con opportuni impiostri per ottenere poi una inchiostratura selettiva dei fogli di stampa che alla base del moderno offset in un settore completamente diverso di quelli che abbiamo parlato fino a poco fa e ancora un settore completamente diverso è quello agricolo è proprio in germania che nel 1801 viene avviata la produzione dello zucchero da barbabietole da a card che è questo signore grazie a studi precedenti di un di un chimico che scopre la presenza del saccarosio nelle barbabietole sempre tedesco e grazie a fatto molto importante perché l'uso dello zucchero da barbabietole che oggi è sistematico allora fu un'innovazione notevolissima che rese lo zucchero estremamente economico lo zucchero da canna rimaneva molto costoso e quindi adatto al grande consumo e quindi all'applicazione ad esempio nel produrre marmellate conserve con un notevolissimo impatto nella dieta e a livello alimentare in generale bene con questo abbiamo finito è stata una lezione un po più lunga del solito ma come vedete densa veramente di eventi di grande importanza vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione